Una cosa che ci sta molto a cuore come Italia dei diritti è la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Naturalmente parliamo soprattutto del costo dei profilattici, noi ci schieriamo per una distribuzione gratuita dei profilattici stessi. Il costo dei preservativi ha raggiunto livelli notevoli e rappresenta spesso un reale problema, soprattutto per gli adolescenti che si avvicinano poi all'assesso con grosse difficoltà. In uno scenario sociale in cui vediamo lo Stato propagandare tutti i giorni, quotidianamente, la salute del diritto, la tutela della salute dei cittadini. Assistiamo a vastissime campagne di sensibilizzazione che vengono finanziate. Poi cosa ci troviamo? Praticamente, sono rivolte soprattutto agli adolescenti queste campagne. Il permanere di una situazione di condizioni così elittarie per l'accesso ai preservativi denota, a nostro avviso, un alone di incoerenza sicuramente. Perciò noi non abbiamo dubbi a tal proposito. Bisogna intervenire immediatamente, c'è un'esigenza primaria, prioritaria, di intervenire sul prezzo dei profilattici, affinché ci sia una prevenzione totale, non sia soltanto propaganda, non sia soltanto demagogia, ma sia una prevenzione totale, quella che deve essere messa in atto. Ma quando invece vengono finanziate campagne, contro l'AIDS, tutto quanto, però effettivamente di fatto non si fa nulla. Come tale diritto noi chiediamo un intervento del Servizio Sanitario Nazionale, proprio. Deve essere interessato il Servizio Sanitario Nazionale nella distribuzione, soprattutto alle fasce più deboli, quando riguarda i condom gratuiti. Non possiamo pensare ad adolescenti che hanno sicuramente grosso disagio nell'acquistare dei profilattici e naturalmente a volte, spesso, non hanno il sostegno economico delle famiglie. Perciò questa è una cosa molto, molto, molto importante. Bisogna assolutamente agevolare questi ragazzi, magari limitare al di sotto dei 18 anni questa cosa al limite. Questo magari bisognerebbe vedere poi le modalità su cui intervenire a livello legislativo. Però è una cosa molto importante, è una battaglia che portiamo avanti, porteremo avanti con grande decisione. So che i ragazzi sono con noi, perché purtroppo c'è un dilagare le malattie trasmettibili sessualmente, perciò parliamo di AIDS, parliamo di epatite C, non sottolineiamo l'epatite C, ma parliamo di papillomavirus, parliamo anche di altre malattie venere, magari minori, ma sicuramente non meno fastidiose. Sono minori, magari meno invasive, però sicuramente possono portare problemi anche seri in tanti casi. Diciamo che è importantissimo, non si può pretendere che un quindicenne entri in farmacia e spenda 10 euro per un pacco di profilattici, pochi profilattici. È chiaro che magari un quindicenne che non ha la possibilità, come la maggior parte poi, la seconda maggioranza dei nostri adolescenti, degli adolescenti appunto italiani, e non possiamo, chiaramente rinuncia alla cosa e perciò preferisce un approccio al sesso con incoscienza, con ingenuità, ma soprattutto obbligato direi spesso da quello che il contesto appunto è la mancanza di disponibilità finanziaria e poi naturalmente da questo derivano tutti i tradici risvolti che conosciamo appunto a livello clinico e a livello patologico. Perciò ribadiamo ancora una volta l'Italia dei diritti in prima linea per la distribuzione gratuita dei profilattici e questa è una cosa di cui deve farsi carico lo Stato. Sappiamo che c'è un articolo che tutela la salute dei cittadini costituzionalmente codificato, che è l'articolo 32 e lo Stato non può, non può assolutamente tirarsi indietro dal rispetto delle norme costituzionali, perciò deve essere tutela la salute dei cittadini e questo può avvenire anche tramite il decretare appunto una distribuzione gratuita per dei preservativi per quanto riguarda gli adolescenti. Grazie 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 Grazie